Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione speciale del nostro videogiornale. Ci soffermiamo anche questa sera sulle tante iniziative di solidarietà che stanno prendendo forma a Roma nei confronti del popolo ucraino ancora devastato dalla guerra. Sono infatti diverse le scuole a Roma che si preparano ad accogliere i piccoli ucraini in fuga dalla guerra. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli nel primo servizio a cura di Tommaso Rocco Arquilla. Le scuole del Lazio hanno deciso di unirsi per accogliere i bambini meno fortunati che in questo delicato periodo hanno dovuto avere a che fare con le conseguenze del conflitto russo-ucraino. L'intento è quello di restituire ai bimbi quella fragile innocenza che gli è stata sottratta ultimamente. Tutto ciò verrà coadiuvato da psicologi e professionisti messi a disposizione dalla regione. A sostenere la nobile causa tra le tante strutture è la scuola paritaria San Giuseppe Casaletto nel quartiere Monteverde che sta concludendo i preparativi per accogliere i bambini profughi nelle migliori condizioni possibili. Quest'ultimi una volta arrivati a Roma verranno affidati a famiglie della zona e per alleviare la tensione scaturita da ciò che hanno dovuto passare nel loro paese natale verranno messe a loro disposizione delle attività ludiche e ricreative. Disegni, animazione, letture, giochi all'aperto, questi alcuni dei modi che verranno utilizzati per distrarre i bambini e far ripassare momenti intensi di felicità. Chi lavora nell'istituto si è interrogato sin dall'inizio su come superare la barriera linguistica tra docenti e bambini. Proprio per questo una delle maestre delle elementari di nazionalità ucraina è stata coinvolta così da risolvere il problema della comunicazione. La preside dell'istituto, Emanuela Corrao, ci ha tenuto a sottolineare che la scuola stessa è in contatto con la chiesa di Santa Sofia, che in questi giorni si sta occupando di raccogliere beni di prima necessità per aiutare la popolazione ucraina. Tra le tante iniziative di solidarietà, come avete sentito anche nel servizio, non possiamo appunto non menzionare il grande lavoro che sta svolgendo la Basilica di Santa Sofia a Roma in via Boccea 478, sotto la direzione di Padre Marco, che insieme a tantissimi volontari si sta occupando di portare al confine cibo e medicine per il popolo ucraino. E noi questa sera abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype proprio Padre Marco, Rettore della Basilica di Santa Sofia. Buonasera Don Marco e grazie per essere nuovamente con noi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, ci vuole dire quando ha deciso di prendere questa importante iniziativa? Erano primi doni di guerra, perché subito abbiamo capito che ci saranno profughi. Ancora non si parlava dei profughi che arriveranno in Italia, però si parlava dei profughi interni, di un flusso delle persone che ovviamente sono dovute fuggire in causa della guerra promossa dalla Russia contro l'Ucraina. Da lì abbiamo subito partito pensando con modi di aiutare. Arrivava un sabato, un sabato in cui partono i pulmini. Il giorno prima abbiamo avuto la proposta di dottoressa Ercoli della medicina solidale, insieme con migranti delle diocese di Roma, per modi in cui aiutare. Abbiamo mandato un semplice messaggio e da lì è partito tramite tanti social. Già sabato e domenica e fin'oggi abbiamo avuto una risposta molto forte degli italiani che hanno cominciato a portare gli aiuti per la Basilica. Poi si subito sono attivati i volontari, senza una richiesta specifica. si sono auto-organizzati, hanno proposto il suo lavoro, il suo volontariato per smistare le cose, per preparare i pacchi e per far partire gli aiuti in Ucraina. Vi eravate già occupati di fornire questo genere di aiuti in passato? No, è la prima nostra esperienza di tale dimensione perché prima ovviamente noi facevamo le raccolte per bambini orfani, soprattutto una certa candela di Natale per bambini malati. Si facevano le opere di carità, però avevano una dimensione della comunità. Pure questa cosa era un po' inaspettata per noi perché all'inizio pensavamo di fare una cosa comunitata però poi con la provvidenza divina e con rispondere alla esigenza si è creato un centro delle dimensioni di oggi. Quali sono le primarie necessità che interessano la popolazione ucraina in questo momento? Ovviamente la prima necessità, noi stiamo raccogliendo le offerte in denaro per gli acquisti specifici perché a volte per noi è più semplice tramite operazioni bancarie comprare le medicine o le cose molto interessanti per esempio in Polonia o in Slovacchia dove arrivano molto più veloce e non c'è la spesa del trasporto. Perciò stiamo raccogliendo pure le medicinali, il materiale sanitario, i cibi in scatolame di lunga dorata, i cibi che possono essere mangiati senza dover cucinare e stiamo raccogliendo pure sacchi a pello per persone sfolate e poi ovviamente arrivano le richieste specifiche. Per esempio oggi è arrivata la richiesta da Kiev, da capitale di un ospedale militare molto grande dove sono tanti soldati feriti, anche curano i soldati russi di cose di prima necessità, per esempio le pigiame, le canottiere, le calzini, le cose che servono per uno che è centrato dalla guerra in ospedale e non ha nulla. Certo, quindi non solo cibo e medicine ma anche tutti gli indumenti intimi, tutti gli accessori, tutto ciò che serve appunto per questa situazione. Senta Padre Marco, volevo chiedere invece sul fronte profughi, vi state occupando anche dell'accoglienza o come vi state muovendo su questo punto? Noi si stiamo occupando sul livello informativo, abbiamo messo a disposizione una ragazza volontaria che cerca di condattare con la Comune di Roma, con Consolato Ucraino e almeno di dare informazione sia per gli italiani come devono muoversi, come possono ospitare in modi giusti per ospitare i profughi, pure per stessi profughi come devono fare i primi passi in Italia. Ovviamente si lavora molto sul livello delle vaccinazioni perché molte persone che arrivano non sono vaccinate, iniziamo dalle vaccinazioni e poi vediamo tutta l'informativa e mettiamo a disposizione i numeri utili. Come ha detto prima Padre Marco, lei non si aspettava tutta questa grande affluenza, tutta questa grande solidarietà da parte dei cittadini romani e tra l'altro domenica scorsa ha partecipato anche alla messa nella vostra basilica il Presidente Mattarella. Che cosa le ha detto il Presidente e come mai ha deciso di prendere parte alla celebrazione ecoristica? Ma di come mai io non so rispondere, è stata per noi una grande sorpresa, ci hanno avvisato poco tempo prima dell'inizio della messa che viene presente in visita, però per noi un grande gesto, lo ripeto spesso, nella persona del Padre della Patria dell'Italia ci siamo sentiti abbracciati dal tutto popolo italiano. Bello, bello questo grande gesto d'amore, questo grande atto d'amore che lei Padre Marco sta facendo con tutti questi volontari e tutte le persone che prendono parte a questa iniziativa, da voi alla Basilica di Santa Sofia e Roma, e volevo chiederle com'è possibile supportare la vostra attività di aiuto? Vogliamo dire a tutti i nostri telespettatori come fare appunto per cercare di dare un piccolo contributo? Sì, ripeto, potrebbe essere fatto in modo di inviare un bonifico sul conto corrente della Chiesa che è destinato per le opere di carità per aiutare le persone sfoliate bisognose ammalate e poi fare una donazione dei cibi in scatolame di quello che accennavo prima portando qua in Basilica di Santa Sofia, via Boccia 478 e da qua partono in Ucraina. Oggi stiamo caricando già quinto camion grande che partirà stanotte verso l'Ucraina. Grazie Padre Marco, io la ringrazio. Ecco, noi stiamo facendo vedere in grafica proprio il Liban della Chiesa Santa Sofia per poter contribuire, per poter aiutare chi vuole dare un piccolo contributo, quindi fare una donazione alla vostra Basilica. Ecco, lo avete potuto vedere in grafica. Io Padre Marco la ringrazio veramente per tutto quello che sta facendo, per ringrazio lei, tutti i volontari e tutte le persone che stanno prendendo parte a questa bellissima iniziativa, quindi ricordiamo a tutti i nostri telespettatori cibo, medicine, ma anche tutti gli indumenti necessari per il soccorso in ospedale e tutto quello che può mancare ovviamente in questa terribile situazione e a questo popolo purtroppo che è veramente devastato dalla guerra. Io la ringrazio ancora Padre Marco, siamo uniti, siamo uniti in preghiera e tanta tanta solidarietà al popolo ucraino. Grazie per quello che sta facendo e alla prossima. Grazie, alla prossima, grazie, arrivederci. Questa edizione speciale del VG21 termina qui, noi vi ringraziamo per essere restati in nostro ascolto e vi auguriamo buon proseguimento di serata su Canale 21. ! Grazie! Grazie a tutti.